Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi prima di parlarvi di quello che tutti stiamo aspettando, quindi l'organizzazione di questo campionato come avevo anticipato nell'ultimo video, volevo condividere con voi la postazione mostruosa che Alessio mi ha mandato. Ci sono pochissimi commenti da fare perché credo che quello che possiede appunto Alessio e che ci ha messo 4 anni per poterlo ottenere da pur appassionato e credo che sia veramente il sogno di tutti, quindi io faccio scorrere un po' le immagini qui intorno a me in modo tale da potervi far apprezzare realmente una postazione geniale, anzi due postazioni geniali con molta personalizzazione, cercherò di mettervi il link oppure lo posterò cercherò di metterlo a qualche parte qui, il video del fratello che spiega come ha realizzato il volante personalizzato. Io ringrazio Alessio per aver condiviso insieme a noi le sue postazioni perché è veramente un lavoro spettacolare, senza contare tutto il contorno anche lui che ha in termini di macchine Ferrari nella sua stanza quello che è. Quindi grazie Alessio e ragazzi un sogno proprio veramente. Poi ragazzi vorrei segnalarvi la Piro Racing System gestita da un mio caro amico, si chiama Giuseppe e realizza delle mod davvero interessanti e molto 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 belle. Il livello tecnico delle realizzazioni è veramente geniale. Inoltre Giuseppe è una persona molto disponibile e quindi ha anche la capacità di poter offrire dei prodotti che si adattano alle vostre esigenze. Quindi ragazzi io vi invito a visitare la sua pagina Facebook perché potrete vedere le sue realizzazioni e magari se siete interessati non esitate a contattarlo perché è una persona davvero gentile e molto disponibile. Ragazzi vorrei al sodo della questione, il campionato. Ho finalmente ragazzi aperto un posto ufficiale sul forum simdrivers.io nella sezione assetto corsa e quindi gare e tornei il campionato che stavate aspettando. Io ci tengo assolutamente a ringraziarvi tutti quanti per il riscontro rispetto a questa proposta perché non mi aspettavo di avere così tante persone che potessero essere interessate e che manifestano appunto la voglia di poter correre insieme a noi. Quindi grazie veramente a tutti. Io ho cercato di organizzare un torneo con un'auto, una mod, la Seat Leon TCR perché in termini di diritti bisogna comunque chiedere l'autorizzazione e quello che avevo provato insomma ragazzi non è che ho chiesto l'autorizzazione, ho fatto un video così al volo. Quindi ho chiesto l'autorizzazione per la mod Seat Leon European UK 2018. Tecnicamente non credo che ci siano problemi, se ce ne dovessero essere non esiteremo a cambiare la tipologia di auto. Il calendario l'ho fatto in modo tale che non andassimo troppo in là nell'estate, si conclude il 3 agosto e già sarà un po' complicato e ho dovuto fare due settimane di fila ragazzi perché altrimenti io personalmente non potrei essere presente se mi salto una settimana perché io finisco il lavoro alle 21 e sarebbe per me davvero complicato poter arrivare qui in tempo a casa per poter insomma gestire il server come si deve. Il server lo attiverò non appena raggiungeremo almeno 15 iscrizioni ufficiali quindi confermate sul forum. Attenzione ragazzi ci sono solo 24 posti perché tutto dipende dai posti, dai box di ogni circuito. Ho preso i circuiti ufficiali quali Mugello, Imola, Magione, Brandac e l'ultimo non mi ricordo, vabbè lo vedrete lì. Durata media della gara è più o meno dai 30 ai 45 minuti, sono dai 12 ai 20 giri dipende dal circuito. Io quello che vi chiedo ragazzi è di leggere attentamente tutto quello che è stato scritto, se c'è qualcosa che non è chiaro non esitate a lasciare un commento lì per avere maggiori spiegazioni. Verranno aperte delle sezioni in questo sottoforum in modo tale da poter aggruppare le informazioni che ci interessano per quanto riguarda appunto il campionato, quindi ci sarà sicuramente una sessione domande frequenti, ci sarà il bar del campionato per poter disquisire in merito al campionato. Cercheremo di fare un replay con commento perché è sempre qualcosa di apprezzabile poter rivedere la gara magari con un commento gogliardico da parte mia o di qualcun altro. Quello che vi chiedo ragazzi è la puntualità perché è importante, non possiamo aspettare tutti perché già l'orario può essere proibitivo per le persone che magari il giorno dopo lavorano. Inizieremo alle 21, il server sarà aperto a partire dalle 20 e 30 in modo tale che chi vuole girare tranquillamente può andare e in ogni modo il server sarà sempre aperto con la configurazione della gara che sta per venire, in modo tale che chi si vuole allenare per vedere il comportamento dell'auto online può andarci tranquillamente. È ovvio che siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta, spero che questa configurazione del server e la tipologia di campionato vi possa piacere, purtroppo siamo adiacenti all'estate quindi diventa un po' complicato fare qualcosa di più lungo. Prendetelo come test, come primo YouTube spot campionato in modo tale da poter magari a settembre-ottobre proporre qualcosa di ancora più interessante. Ricordatevi ragazzi che non si vince assolutamente nulla se non il puro divertimento con degli amici. Quindi vi prego assolutamente di fare attenzione al vostro comportamento in pista, è ovvio che ci sono gli incidenti di gara però siate fair play al massimo, se vedete che avete fatto una scorrettezza, in buona fede spero, non esitate a cedere alla posizione, poi si può disquisire tranquillamente a dopogara in modo tale da non ripetere gli stessi errori. Non siamo qui per giocarci la coppa assolutamente, quindi ragazzi sapete lo spirito con il quale dovete venire a correre insieme a noi. Vi darò i dettagli del server e quelli del server Mumble per la comunicazione, è ovvio che serve un microfono e delle cuffie, così da poter non solo disquisire tra di noi durante le fasi di pre-cara ma anche per fare perché no un briefing, un debriefing che è sempre interessante farlo. Ragazzi io apro ufficialmente quindi le iscrizioni, lasciate le vostre adesioni sul forum simdrivers.eu, sezione assetto corsa, sotto forum gare e tornei c'è scritto seat, leon, tcr, championship, youtube, spot, una cosa del genere, cercate di fare un qualcosa di abbastanza figo. Leggete attentamente quello che c'è scritto perché per confermare la propria iscrizione ragazzi bisogna seguire una serie di cose. Io sono già iscritto, sono il primo iscritto, vi aspetto e ricordate solo 24 posti. Quindi ragazzi se la proposta vi piace, il campionato vi piace, il video vi è piaciuto non esitate a lasciarvi un pollice in su, lasciate un commento, non esitate ad iscrivervi al canale e al campionato, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabrice è tutto, grazie, ciao!